Kelly Cahill è una donna australiana dal carattere forte che l'8 agosto 1993 subì una traumatica esperienza di abduction. Era sera e la 25enne Kelly, insieme al marito Andrew, stava tornando a casa dopo una visita degli amici. Attraversarono in auto la località di Eumimering Creek a Belgrave, nello Stato Federato Victoria, a circa 50 chilometri da Melbourne. Dietro di loro, a una distanza di circa 100 metri, avevano notato la presenza di altre due macchine. Verso mezzanotte, Kelly, insieme a suo marito e gli occupanti degli altri veicoli, osservarono delle strane luci ad un'altezza doppia rispetto agli alberi che sembravano librarsi a circa 400 metri da loro. Guardando più attentamente, si accorsero che c'erano delle sagome all'interno delle luci. Kelly disse, guarda, ci sono delle persone là dentro. Dopo un attimo, le luci ci spensero e scomparvero in una manciata di secondi a est di Melbourne. O almeno, così sembrò. Benché esistano casi di incontri ravvicinati del quarto tipo, con soggetti prelevati dalle loro stanze da letto. Le esperienze notturne, per strada o a bordo di un'auto, sono abbastanza frequenti. Vale la pena rammentare i casi di Barney e Betty Hill, di Travis Walton o di Pierre Fortunato Zanfretta, avvenuti in condizioni simili. Nel caso dei coniugi Cahill, tutti i testimoni avevano subito un'esperienza traumatica e una parziale perdita di memoria. Fu Kelly la prima ad accorgersi del cosiddetto missing time. Sembravano essere passati solo dei secondi, ma Kelly ricordava bene che la prima volta che videro le luci, la loro auto viaggiava a 110 km all'ora. E subito dopo, quando gli oggetti sparirono, stavano marciando a soli 40 km all'ora. Inoltre giunsero a casa alle 2.30, nonostante fossero partiti alle 11.45, per un tragitto che di solito richiedeva circa 90 minuti. La sera stessa, Kelly cominciò a perdere sangue, nonostante il ciclo mestruale fosse finito una settimana prima. La perdita era così copiosa che dovette mettere i propri vestiti a lavare. Mentre si svestiva, si accorse con stupore di avere un segno triangolare e rosso proprio sotto l'ombelico. Il segno scomparve dopo alcuni mesi, ma la cicatrice sarebbe rimasta. Kelly cominciò a sospettare che tutto fosse connesso con il suo avvistamento, ma dato che aveva sofferto di problemi ginecologici fin dall'età di 16 anni, decise di non rivolgersi al proprio medico. L'emorragia, tuttavia, continuò per circa tre settimane, al che Kelly decise di andare in ospedale. Visti i sintomi, i dottori pensarono che fosse incinta, ma i test risultarono negativi e alla fine conclusero che aveva una semplice infezione all'utero. Anche il marito Andrew era turbato, e benché continuasse a insistere che non fosse accaduto nulla, alla battuta scherzosa di un amico sugli UFO rispose scuro in volto. Non parleresti così se avessi visto quello che abbiamo visto Kelly ed io. Poco tempo dopo, ripercorrendo casualmente la stessa strada che era stata teatro dell'avvistamento, Kelly ebbe dei flashback. La sua mente si sbloccò e poco dopo iniziò a ricorrere. a dare tutto spontaneamente, ricostruendo l'accaduto. Quella notte, Andrew aveva accostato la macchina al lato della strada e Kelly scese, cominciando a camminare verso l'UFO, che era atterrato in un campo vicino. L'oggetto aveva un diametro di circa 50 metri ed emanava una luce propria. A quel punto Kelly notò due persone che attraversavano la strada, provenienti da una macchina posteggiata. Dopo pochi secondi, dal lufo uscì un essere scuro, magro, alto circa due metri e dalla testa insolitamente grande. Kelly pensò che fosse possibile comunicare con l'essere in qualche modo, ma qualche secondo dopo udì una frase, forse proveniente dall'essere alto, che suonava come «uccidiamoli» e fu presa dal panico. Arrivarono sette o otto altri esseri simili al primo, e Kelly avvertì delle ondate di energia in tutto il corpo. Cominciò a volare «Non hanno anima!» e solo allora gli occhi degli esseri divennero visibili. Erano grandi, rotondi e rossi. Le entità si divisero in due gruppi. Il primo si deresse verso gli altri testimoni. Il secondo si mosse in direzione di Kelly ed Andrew. All'improvviso, lei avvertì un forte colpo allo stomaco e cadde supina sull'erba. Si mise poi seduta e cominciò a chiamare Andrew ad alta voce, scoprendo allibita di aver perso la vista. Cominciò a vomitare violentamente e avvertiva dei fischi nelle orecchie. Apparentemente le entità informarono Kelly che non avrebbero fatto del male, al che Andrew replicò «E allora perché l'avete colpita?». Dopo qualche istante svenne e quando riprese i sensi era ancora cieca. La paura cedette il posto alla rabbia e si mise a urlare «In nome di Dio!». L'ultima cosa che ricorda era di essere nuovamente seduta in macchina. Decisa ad andare a fondo alla questione, due mesi dopo l'episodio, Kelly riuscì a contattare John Auchettl, uno dei ricercatori UFO più stimati di tutta l'Australia. Kelly e Auchettl si incontrarono e dopo che la donna gli espose l'accaduto, Auchettl la sorprese affermando che la sua esperienza non era poi così rara. Le ricerche seguenti rivelarono che il luogo dell'abduction si trovava sulla statale Belgrim Hallam. Furono eseguiti dei test chimici del suolo in quella zona, che incredibilmente confermarono l'avvenimento. Erano presenti dei segni sul terreno lasciati probabilmente dai tre sostegni dell'oggetto. I livelli di magnetismo del luogo e del presunto atterraggio erano superiori a quelli naturali, mentre il suolo era stato compattato. Auchettl scoprì anche che il terreno in questione aveva subito una forte disidratazione, cosa che indicava un brusco aumento di calore. Kelly era più che sicura che anche altre persone si trovavano sul posto al momento dei fatti. Così Auchettl mise degli annunci sui giornali, invitando tutti quelli che credevano di aver visto un UFO a telefonargli. Ricevette molte chiamate, ma nessuna connessa al caso di Kelly, fino al 17 novembre 1993, quando gli giunse conferma che altre tre persone si trovavano lì quella notte. I coniugi Jane e Bill, che hanno omesso il loro cognome e la loro amica Glenda, affermarono di aver viaggiato sulla statale Belgrave Hallam l'8 agosto 1993 e di aver visto un oggetto simile a quello segnalato da Kelly. Avevano fermato la macchina e videro numerose entità nel campo ed un'altra macchina dietro di loro. Bill, come Andrew, aveva pochissimi ricordi dell'avvenimento e non voleva rivelare la propria identità ai giornali, per timore di perdere il posto di lavoro. Si scoprì che anche questo gruppo arrivò a casa con circa due ore di ritardo, un vuoto temporale di cui non avevano alcun ricordo. Glenda e Jane ricordarono di aver visto un UFO nel campo, la macchina di Kelly e un'altra vettura dopo la loro con un uomo alla guida. Una volta scesi dalla macchina, Bill, Glenda e Jane si incamminarono verso l'UFO. Descressero un grande oggetto appoggiato a terra su tre sostegni e diverse entità scure tutti intorno, mentre si poteva sentire un forte suono ronzante. Poi il nulla. Le donne ricordavano solo di essersi risvegliate in macchina. Auketl decise di sottoporre i tre testimoni a ipnosi regressiva. Le donne ricordarono di essere state legate a un tavolo e di un'entità che stava loro a fianco. Poi delle creature la sottoposero ad un esame interno con degli strani strumenti. Pur separate, le testimonianze delle due donne coincidevano su un fatto. Si erano sentite in pericolo. Bill non fu in grado di fornire alcuna informazione, sebbene ricordasse che attorno a lui c'era molta attività. Dopo l'evento, Glenda scoprì un brutto ematoma sulla caviglia e decise di andare dal medico. Le due donne riscontrarono tre punti rossi all'interno delle gambe e un segno triangolare rosso sotto l'ombelico, proprio come quello di Kelly. Tra i ricordi di Jane emergeva spesso quello di un drago rosso fluorescente, visto nell'oscurità. Il dettaglio, apparentemente insignificante, ma unico e confermato come reale, è arrivato quando la moglie di un altro testimone anonimo ha inviato una lettera a un giornalista, descrivendo il drago dipinto sulla ruota di scorta dell'auto del marito, un dettaglio unico e sconosciuto ai ricercatori. Nel corso degli anni, i Cahill scomparvero dai radar. Molti ricercatori UFO credono che gli strani e inquietanti esseri avvistati provenissero da un universo parallelo e siano scivolati nel nostro mondo. Altri dicono che provenissero da un futuro non troppo lontano. quel che è certo è che la storia di Kelly Cahill è stata studiata da molti ricercatori e ufologi, ma non venne a galla nulla di nuovo nel tempo. Detto questo, Kelly era ampiamente considerata una persona onesta e affidabile, e il suo caso è considerato legittimo da molti investigatori UFO. La sua storia è uno degli incontri ravvicinati del quarto tipo, più documentati e inquietanti. Le testimonianze coincidenti e le prove fisiche sul luogo dell'incidente rendono questo caso tra i più credibili nella storia dell'abduction. Kelly e gli altri testimoni hanno vissuto un'esperienza che ha lasciato cicatrici fisiche e psicologiche e che continua a suscitare domande e interesse tra ricercatori e appassionati di ufologia.